tutti a fichamp conoscevano la storia della patenne certo non era stata felice con suo marito la patenne mentre era in vita lui la batteva come si batte il grano nei granai era padrone di una barca da pesca e benché lei non avesse un soldo l'aveva sposata tanto tempo fa perché era carina patin buon marinaio ma brutale frequentava l'osteria di oban dove nei giorni ordinari si scolava quattro o cinque bicchierini di grappa nei giorni di buona fortuna in mare otto o dieci e anche di più secondo diceva secondo quel che gli suggeriva il cuore i bicchierini erano serviti ai clienti dalla figlia di oban una graziosa brunetta che attirava gli uomini all'osteria soltanto con i suoi bei modi perché sul suo conto non c'era mai stato da ridire patin quando entrava all'osteria si contentava di guardarla e le faceva dei discorsi garbati dei discorsi da giovanotto serio dopo il primo bicchierino la trovava ancora più graziosa al secondo le faceva l'occhiolino al terzo le diceva se voleste signorina desirè ma senza mai finire la frase al quarto cercava di trattenerla per la gonna per baciarla e dopo il decimo bicchierino i successivi glieli serviva papà oban il vecchio oste che conosceva ogni risorsa del commercio faceva girare desirè fra i tavolini per aumentare le ordinazioni e desirè che non per nulla era la figlia di papà oban sgonnellava intorno ai bevitori e scherzava con loro la bocca di dente e gli occhi furbi patin a forza di bere bicchierini su bicchierini era così attratto dal corpicino di desirè che ci pensava anche in mare quando gettava le reti in acqua a largo nelle notti di vento o nelle notti di bonaccia nelle notti di luna o nelle notti oscure ci pensava reggendo il timone a poppa del battello mentre i suoi quattro compagni sonnecchiavano la testa china sul braccio la rivedeva sorridente mentre gli versava la grappa gialla sollevando la spalla e poi se ne andava dicendo ecco siete contento e a forza di tenersela così negli occhi e nell'anima fu preso da una tale voglia di sposarla che non potendone più la chiese in matrimonio patin era ricco proprietario della sua barca delle sue reti e di una casa ai piedi della costa sulla rete nu mentre papà o ben non possedeva nulla fu accettato dunque con premura e le nozze furono sbrigate alla svelta perché le due parti per ragioni diverse avevano fretta che la faccenda fosse conclusa ma tre giorni dopo il matrimonio patin non riusciva più a capacitarsi come avesse potuto credere desirè diversa dalle altre donne era stato davvero un imbecille appigliarsi quella squattrinata che l'aveva adescato con la sua acquavite certo con quell'acquavite nella quale aveva mischiato per lui qualche droga del diavolo e bestemmiava durante le mareggiate spezzava la sua pipa fra i denti inveiva contro il suo equipaggio e dopo aver imprecato a piena bocca con tutti i termini dell'uso frequente e contro tutto quello che conosceva sputava quella bile che gli restava nel buzzo sui pesci e le aregosti tirate su a uno a uno fuori dalla rete e non li gettava nei canestri se non accompagnandoli con improperi e sudicerie poi tornato a casa dove aveva portata di bocca e di mano sua moglie la figlia di Popaoba non tardò molto a trattarla come l'ultima delle puttane ma vedendo che essa lo ascoltava rassegnata abituata alle violenze paterne si esasperò della sua calma e una sera la picchiò da allora cominciò in quella casa una vita d'inferno per dieci anni sulla rete nì non si parlò che delle botte che Patin dava a sua moglie e delle bestemme che le buttava in faccia ad ogni proposito Patin infatti bestemmiava in modo tutto suo personale con un vocabolario così dovizioso e una voce così sonora che in tutta fesciampe non c'era nessuno che potesse stargli a paro quando il suo battello appariva all'ingresso del porto al ritorno dalla pesca la gente adonata sulla riva aspettava la prima bordata che Patin avrebbe scaraventato dal ponte della sua nave sul molo appena avesse intravisto la cuffia bianca di sua moglie ritto in piedi a poppa badava alla manovra attento alla prua e alla vela nei giorni di mare grosso e malgrado la preoccupazione nel passo stretto e difficile malgrado le onde che rompevano come montagne nello stretto passaggio Patin cercava tra le donne raccolte ad aspettare i marinai sotto la schiuma delle ondate cercava la sua donna la figlia di papà oban quella gran disgraziata e appena la scorgeva magrado il frastuono delle onde del vento le vuotava addosso un sacco di improperie con tanta energia che tutti scoppiavano a ridere benché la compatissero molto poi quando il battello attraccava al molo lui aveva un modo tale di scaricare la sua zavorra di cortesie come diceva mentre sbarcava il suo pesce che attirava intorno all'ormeggio tutte le canaglie e gli sfaccendati del porto gli improperi gli uscivano a volte come cannonate terribili e brevi a volte come tuoni che per cinque minuti facevano rotolare un tale uragano di parolaccia come se si tenesse in serbo nei polmoni tutti i temporali del padre terno poi quando sbarcava e veniva a trovarsi faccia a faccia con sua moglie tra la folla dei curiosi e delle pescivendole tornava a ripescare dal fondo della stiva tutto un nuovo carico di insulti con i quali l'accompagnava fino a casa lei davanti e lui dietro lei piangendo e lui gridando a casa appena soli chiuse le porte lui la picchiava al minimo pretesto qualsiasi ragione era buona per alzar le mani e quando cominciava non si fermava più e allora le buttava in faccia i veri motivi del suo odio a ogni schiaffo a ogni ceffone urlava stracciona avevi solo le pezze al culo morta di fame ho fatto un bell'affare il giorno che mi sono sciacquato la bocca con il torcibudella di quel delinquente di tuo padre lei povera donna viveva ora in una incessante paura in un continuo tremito dell'anima e del corpo in una smarrita attesa di oltraggi e di percosse questa vita durò dieci anni lei era così impaurita che si scolorava parlando a qualsiasi persona e non pensava più a nulla se non alle botte di cui era minacciata era diventata più magra più gialla più secca di un pesce affumicato una notte mentre il suo marito era in mare fu svegliata a un tratto da quel brontolio di bestia che fa il vento quando arriva come un cane sciolto dalla catena si rizzò nel letto turbata poi non udendo più nulla tornò a colicarsi ma quasi nello stesso istante scoppiò nel cammino un boato che squassò tutta la casa e quel rumore ritornò per tutto il cielo come se un branco di animali infuriati lo avesse attraversato soffiando e mugghiando lei allora si alzò e corse al porto altre donne accorrevano da ogni parte con le lanterne arrivavano di corsa anche degli uomini e tutti uomini e donne guardavano accendersi nella notte sul mare la spuma sulla cresta delle onde la tempesta durò quindici ore undici marinai non ritornarono e Patin fu tra quelli furono ritrovati dalle parti di Dieppe alcuni relitti della Amélie la sua barca presso Saint-Valais furono raccolti i corpi di sei marinai del suo equipaggio ma il corpo di lui non fu mai ritrovato poiché la chiglia dell'imbarcazione sembrava essere stata tagliata in due la moglie per lungo tempo aspettò e paventò il suo ritorno perché se casomai la Amélie fosse stata investita da un'altra nave poteva darsi che la nave investitrice avesse raccolto Patin lui solo e l'avesse portato lontano poi a poco a poco lei si abituò al pensiero di essere vedova ma tuttavia trassaliva ogni volta che una vicina o un mendicante o un merciaio ambulante entravano all'improvviso in casa sua ora quattro anni dopo la scomparsa di suo marito un pomeriggio passando per Rue de Juif si fermò davanti alla casa di un vecchio capitano di mare morto di recente e di cui stavano vendendo i mobili proprio in quel momento si stava mettendo all'asta un pappagallo un pappagallo verde e a testa azzurra che osservava i presenti con aria scontenta e inquieta tre franchi gridò il banditore un volatile che parla meglio di un avvocato tre franchi un'amica della Patin le dette una gomitata dovresti comprarlo tu che hai soldi disse ti farà compagnia vale più di trenta franchi quell'uccello troverai sempre da rivenderlo per venti o venticinque franchi quattro franchi signori quattro franchi continuava a gridare il banditore canta i vespri e predica meglio del signor curato è un uccello straordinario miracoloso la Patin aggiunse 50 centesimi e l'animale dal becco a uncino le fu consegnato dentro una gabbietta che lei si portò a casa mise l'uccello in una camera e mentre apriva la gabbia per dargli da bere si buscò al dito una beccata che le tagliò la pelle e fece uscire il sangue ah quanto è cattivo disse la donna ciò nonostante gli diede canapuccia e gran turco poi lo lasciò alisciarsi le penne mentre adocchiava con aria sorniona la sua nuova dimora e la sua nuova padrona l'indomani all'alba la Patin udì chiaramente una voce una voce forte sonora tonante la voce di Patin che gridava alzati carogna il suo spavento fu tale che ficcò la testa sotto la lenzuola perché ogni mattina appena apriva gli occhi il suo defunto marito gliele urlava nell'orecchio quelle due parole che lei conosceva così bene tremante era grinzita la schiana pronta a ricevere l'attesa scarica di botte la faccia affondata nel guanciale lei mormorò signore dio eccolo signore dio eccolo ha ritornato signore dio i minuti passavano nessun rumore turbava più il silenzio della camera allora tremando essa tirò fuori la testa dal letto sicura che lui fosse là appostato e pronto a pestarla ma non vide nulla nulla all'infuori di un raggio di sole che traversava la finestra e pensò è nascosto di certo aspettò a lungo poi un po' rassicurata pensò se non si fa vedere vuol dire che ho sognato stava richiudendo gli occhi un po' rassicurata quando scoppiò vicinissima la voce fu ribonda la voce tonante che vociferava corpo d'un cane alzati corpo d'un cane vuoi alzarti brutta troiaccia salto fuori dal letto spinta su dall'obbedienza dalla sua passiva obbedienza di donna abituata alle busse che ricordava ancora dopo quattro anni e che sempre ricorderà sempre ubbidendo a quella voce e disse eccomi qua patin che vuoi ma patin non rispondeva allora smarrita si guardò attorno poi cercò dappertutto negli armadi nel caminetto sotto il letto non trovò nessuno e infine ci lasciò cadere su una sedia pazza d'angoscia convinta che l'anima di patin era là sola vicino a lei ritornata per torturarla d'improvviso si ricordò del granaio cui si saliva per una scala esterna certamente si era nascosto lassù per sorprenderla prigioniero dei selvaggi su qualche costa deserta egli non aveva potuto scappare prima e ora era ritornato più cattivo che mai non ne poteva dubitare non fosse che per il timbro della voce la testa sollevata al soffitto domandò sei lassù patin patin non rispose allora lei uscì di casa una orribile paura le agitava il cuore salì la scala aprì l'abbaino guardò non vide nulla entrò cercò e non trovò nulla seduta su un mucchio di paglia si mise a piangere e mentre si inghozzava invaso da un terrore soprannaturale udì nella sua camera di sotto patin che chiacchierava sembrava meno adirato più tranquillo e diceva tempaccio schifoso ventaccio della malora tempaccio schifoso non ho mangiato porco mondo e si aggridò attraverso il pavimento scendo subito patin ti preparo la minestra non ti arrabbiare vengo subito ridiscese di corsa non c'era nessuno nella camera si sentì venir meno come se fosse stata toccata dalla morte e stava per correre a chiedere aiuto ai vicini quando la voce proprio vicino al suo orecchio gridò non ho mangiato porco mondo e il pappagallo dalla sua gabbia la guardava con l'occhio rotondo sornione cattivo lei pure lo guardò smarrita e sussurrò ah sei tu il pappagallo continuò scuotendo la testa aspetta aspetta ti insegno io a fare la sfaticata che cosa avvenne in lei e si assentì capì che era proprio lui il morto che era ritornato e che si era nascosto sotto le penne di quella bestia per ricominciare a tormentarla che avrebbe ricominciato a bestemmiare come una volta dalla mattina alla sera e a morderla e a gridare in properi per chiamare a raccolta i vicini e farli ridere allora si buttò avanti come una belva aprì la gabbia afferrò l'uccello che per difendersi le lacerava la pelle col becco e con gli artigli ma lei lo stringeva con tutta la sua forza con tutte e due le mani e buttandosi per terra si rotolò con una frenesia da invasata lo spiaccicò lo ridusse a una poltiglia di carne a una piccola cosa molle verde che non si muoveva più che non parlava più e che ciondolava ravvolta la bestia in uno strofinancio sudicio come un lenzuolo funebre uscì in camicia scalza attraversò il molo battuto dalle brevi onde e scuotendo lo straccio lasciò cadere quella piccola cosa morta che somigliava a un mucchietto di erba poi ritornò a casa e cadde in ginocchio davanti alla gabbia vuota e sconvolta da quello che aveva fatto singhiozzando domandò perdono al buon dio come se avesse compiuto un orribile delitto